ciao a tutti siamo nel periodo di pasqua pre pasquale che ne dite di creare un bellissimo coniglietto prendiamo il nostro solito foglio e vi dico tutti i passaggi da fare per creare un coniglietto semplice semplice prendo la mia matita dei minions allora facciamo come prima cosa una lineetta è questo come se fosse un sorriso di lato una lingua una linguaccia di la vi scrivo tutti i passaggi questo uguale e due che saranno le orecchiette poi facciamo lo stesso con due orecchiette e facciamo dritta una pancia quella che sembra una pancia vedete che tipo una b al contrario poi facciamo di nuovo questa b al contrario quasi al contrario e poi che aggiungiamo le zampette una di qui e una di qui poi facciamo sempre così vi dico tutti tutti i passaggi e poi che manca mancano le manine quasi quasi finito così imparate a creare con le forme di faccia facciamo menzampine adesso cosa manca io gli occhietti mancano il nasino la bocca e i boffetti così quindi poi lo passeremo con un colore o una matita spirito nera non è tale che si notino di più vari tutti i vari passaggi inoltre andremo a cancellare le parti che non si devono vedere quindi questo andrà così questo sarà più morbido che manca qui la codina che ne pensate di questo piccolo coniglietto possiamo crearlo anche in questo modo allora dato che oramai questo lo sappiamo fare lo facciamo al contrario quindi questo già lo sappiamo fare non abbiamo bisogno di altre spiegazioni e poi da qua sapete che facciamo facciamo partire questa curva un po' di qui e chiudiamo e qui facciamo le zampette che sono queste e poi qui facciamo le zampette posteriori con tanto di codina che ne pensate c'è una bella carotina e abbiamo questi belli questi bei conigli che ne pensate fatemi sapere se farete questi coniglietti che io se mi mandate le foto metterò nella community metterò il vostro nome e la vostra foto alla prossima ciao